Cosa? No, 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 aspetta un attimo, io quello non conosco. Trombetta! Ma che cosa fai con tutta quest'acqua? Ma salta su, vieni! Ma chi ti crede essere? Ginchelli? Per favore, non mi spaventi, eh? Non mi terrorizzi come al solito. Morirete di paura. No, ci ammazziamo, paura! Ho paura, per favore! Non devi preoccuparti, è un po' sadi, com'è un bravo uomo. Aiuto! 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 Per favore, a meno i finestrini, poteva chiuderli, no? Sono bloccati. Ma dai, trombetta, che ti asciughi con un po' d'aria, guarda come sei bagnato. Per piacere ci faccio... Aiuto! Io ce la faccio... Tenetevi stretti. Ma scusa, noi non ci siamo ancora presentati. E beh, io sono Martina. Maurizio. È un piacere. Adesso basta, eh? L'ora è finita. Lo so, lo so. Coraggio, siamo quasi arrivati. Coraggio, siamo tutti. Grazie.